Carissimi amici dell'Istituto Italiano di Cultura a Seul, siamo giunti all'ultimo giorno del 2021, un anno che ci ha fatto vivere separati fisicamente ma connessi grazie ai nostri social. Con questo video, insieme all'Ambasciata d'Italia, vogliamo ringraziarvi per averci incontrati attraverso i nostri eventi e per avere condiviso con noi il vostro entusiasmo e la vostra curiosità per il nostro programma culturale appena concluso. Il 2022 è alle porte e sarà ancora più ricco di incontri e nuove proposte dall'Italia. Speriamo soprattutto di poterci finalmente incontrare. Yorobun agnonna, sehe bog mani, bagusigo, god mannaio. Ce l'ho fatta, ho parlato, ho parlato coreano. Ciao a tutti e buon anno! Grazie a tutti e buon anno! Grazie a tutti e buon anno! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!